Ciao amici del MyLab! Com'è collegato l'intestino con la depressione, gli stati d'ansia, tutte queste cose qua che a volte finiscono per farci prendere dei farmaci che sono peggio della malattia, vero? Ho chiesto di parlare di che collegamento c'è con l'intestino, ebbene sì c'è un collegamento anche con l'intestino, e la depressione. Ho chiesto questa cosa alla nostra dottoressa Simoni e vediamo cosa ha da dirci a riguardo. Andiamo al prossimo slot, sempre collegato all'infiammazione, quindi l'asse intestino e cervello. So che tu sei particolarmente ferrata, esperta di questo aspetto, cioè di quanto la condizione dell'intestino vada a influenzare l'aspetto mentale, umorale e così via. Questa è una cosa che sorprende molte persone, vero Jessica? Sì, assolutamente sì. Io oggi, se volessi immaginare una raffigurazione dell'intestino, io penserei alle centraline che controllano oggi le macchine nuove, no? Prima che cosa facevi? Aprivi il cofano, andava a frugare qua e là. Oggi non si può fare, tu porti dal meccanico, quello collega la centralina e vedi dove è il problema. L'intestino è la stessa cosa, è la centralina operativa della nostra salute e quindi la nostra salute del sistema ovviamente difesa del nostro corpo, la nostra salute mentale perché noi abbiamo un nervo che parte qui del tronco encefalico, si chiama nervo vago, ok? Questo nervo vago abbraccia tutti i nostri organi, come fosse proprio una mannina che arriva a fine in fondo e quindi c'è un collegamento diretto di quello che succede nell'intestino con quello che succede nell'intestino nel sistema nervoso centrale. Ricordiamoci, il sistema nervoso centrale è composto, oggi si sa, anche dell'intestino. Noi a volte pensiamo che abbiamo solo lì nel cervello, poi gli altri, ma no, la rete neurale dell'intestino è fantastica, ha la produzione di serotonina, di triptofano, è 80-90% fatto dall'intestino, quindi se ho un'infiammazione nell'intestino tutti questi neurotrasmettitori vanno a sballare, capisci? Quindi noi abbiamo proprio i problemi di ansia, i problemi di depressione, quindi stati umorali alterati, tutto dovuto a questo problema intestinale. Tu immagina che in America tantissimi professionisti che vanno a trattare questi disturbi di ansia, depressione, prima cosa che fanno è capire con me la situazione dell'intestino. Esistono dei probiotici che aiutano tantissimo a riequilibrare insieme all'alimentazione in questa condizione, poi andiamo a vedere e a fare tutto il resto della terapia, quindi quest'asse è fondamentale. Ricordiamo l'impatto dello stress, io credo che è importante ricordare che esistono alcuni pilastri, come abbiamo detto, l'alimentazione. L'altra questione fondamentale è lo stress, la condizione psichica, quindi è fondamentale questa perché interagisce con l'intestino e impatta quasi tanto quanto all'alimentazione. Poi lo sport è un altro asse per mantenere la condizione psicofisica, mantenendo l'equilibrio intestinale. E questo avviene paradossalmente, in maniera interessante, in tutti e due i versi. È un'altra strada, è un'altra strada che va e viene, che va e viene. Quindi lo stress eccessivo, preoccupazioni e cose del genere influiscono sull'intestino e l'intestino può influire e farci sentire più ansiosi, più depressi o un cattivo umore rispetto a quello che la situazione potrebbe essere. Assolutamente sì, è un pochino un carne che si morde la coda, quindi dobbiamo trovare un punto dove entrare e spezzare questo circolo che non è assolutamente positivo. Già, tra l'altro questo probabilmente è anche uno dei motivi per cui mettere a posto l'intestino non può essere tanto veloce, perché questa è la cosa di cui si lamentano tra virgolette e i nostri clienti, le persone che ci seguono, dicono però io speravo di cavarmi in 2-3 settimane. Sì, no, si può fare qualcosa con l'alimentazione, già qualcosa... Già migliora, sicuramente già migliora. Però se vuoi veramente cambiare, dobbiamo renderci conto che sono tutte queste cose collegate l'una all'altra, quindi è un gioco forza, devi aspettare che si riequilibrino un sacco di sistemi, non può essere una cosa di qualche ora. Siamo abituati ai farmaci, Jessica, questa è la verità. Eh sì, è quello che diceva Loris, la questione di spegnere la lampadina. Eh brava, esatto, siamo abituati a spegnere la lampadina. È molto facile andare lì a spegnere una lampadina di una sintomatologia piuttosto che andare a capire chi ha fatto accendere la lampadina. Eh sì, sì, è vero. Un professore di un'università durante un convegno mi ha fatto proprio questa analogia. Supponiamo che tu abbia mal di testa, diceva. La mal di testa può dipendere da 30 motivi differenti, dall'intestino, da problemi di ossa, da milioni di cose, no? Diciamo che il fatto di prendere una pastiglia è come se fosse durante una... Tu sei in una scuola, scatta l'allarme antincendio, c'è questa campanella che fa bing 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 e suonano. Arrivano i pompieri e invece di cercare l'incendio prendono la scala, vanno sulla campanella, la svitano e la speggono. Penso perfettamente. Io, ritornando alla macchina, no? Perché tutti noi abbiamo la macchina. Io dico, ti accendi la spia dell'olio. Che cosa fai? Vai a vedere qual è il problema e rimette l'olio o spegne la lampadina? Spegne la lampadina. Grazie a tutti.